Vittorio, bisognerebbe alzare gli stipendi alla faccia dell'antipolitica? L'antipolitica, come dice la parola, è la negazione della cultura e del rapporto con la città, con la polis. È il mondo di barbari che in nome di una visione inconsistente e senza idee ha conquistato il Parlamento e lo ha ridotto del 30%. Di fatto, la retorica aveva accolto anche persone di buona qualità come Alemanno, assolto da tutto e condannato all'ignominia per molti anni, il quale per fare retorica aveva portato lo stipendio del sindaco di Roma, sai a quanto? A 3.600 euro, la cifra più bassa. Era stato marino a cercare, vilipeso, di portarlo alla dignità che oggi ha salari, circa 10.000 euro. Anche perché è un lavoro veramente difficile. Però di fatto, la proposta che io faccio, sì, è difficile, ma siccome il parlamentare, come sai, anche se vuole, non può lavorare più del martedì pomeriggio, mercoledì mattina, mercoledì pomeriggio e giovedì mattina, tolte le commissioni, ai, giovedì, venerdì, sabato, domenica, lunedì, martedì mattina, libero, per cui occorre variare il numero, non dico il numero dei sindaci, il numero degli abitanti, cioè devi, sotto i 100.000, renderlo compatibile e imporre ai parlamentari, come dato fondamentale in città di quella misura, di mettersi l'un contro l'altro. Quindi avendo un, diciamo, un numero di candidati che si svolge per i partiti, tutti i parlamentari possono concorrere al sindaco. Ci hanno il vantaggio di avere solo quello stipendio che è comunque alto e avere quella insindacabilità o paraimmunità, che vuol dire essere al riparo da quello che può toccare un sindaco, come hanno toccato quello di Lodi, come ha toccato Alemanno, come ha toccato tanti che hanno fatto nulla e sono stati incriminati in nome di quella cattiva politica che si chiama antipolitica. Quello che io dicevo per il sindaco Bonanno è che in piccole città gli era possibile avere il potere di chi è dentro il Parlamento a vantaggio della sua città. Questo io faccio per Sutri. Sutri è uno dei borgo di Umbel d'Italia. Il borgo di Umbel dell'Azio, bandiera arancione, diventerà bandiera azzurra. Abbiamo fatto un filmato sui tablon vivanti di Caravaggio che è stato visto da 26 milioni di persone che diventano turisti. La città è piena di turismo. Occorre la forza morale che chi ha nome e potenza politica faccia il sindaco. Se non lo capiscono, vadano al diavolo. Come sempre sei partito da una provocazione. Però onestamente, quando i parlamentari dicono ma io che c'entra, quando ho un lavoro mi occupo del territorio, quale è il modo migliore di occuparsi del territorio che avendo delle responsabilità a livello locale potendo agire. Quindi il tuo ragionamento non fa una piega onestamente. è prima di essere.